10 5 4 3 2 1 vai 30 fila destra 3 20 sinistra 3 in destra 5 per fila destra 3 in sinistra 3 più i tieni su dosso per riterno poco destra 3 più vai 50 fila sinistra 4 lunga tieni per riterno poco fila destra 3 per sinistra 3 in taglia poco sinistra 2 più per fila destra 2 vai 30 fila destra 2 per riterno poco per sinistra 2 su ponte in destra 3 per fila sinistra 2 per taglia destra 3 più vai 40 40 destri a rail fila sinistra 4 per destra 3 più vai 100 sinistri destra 5 su dosso vai 100 attenzione video tornantone sinistro 50 50 fila sinistra 4 per destra 3 più doppia 80 destri alla ringhiera sinistra 2 doppia 2 doppia 30 ritarda poco destra 2 per sinistra 2 tieni 30 ritarda poco destra 2 vai 40 attenzione tornante destro 20 fila sinistra 3 20 taglia destra 3 per fila sinistra 2 40 destra ridossati taglia poco destra 2 in fila sinistra 2 in taglia destra 2 tieni 20 tornante sinistro leva 30 tornante destro leva 50 fila sinistra 3 più vai 30 tornantone destro 30 ritarda poco sinistra 2 più vai 80 fila sinistra aprirlo il suo sterzo fila sinistra 3 20 sinistra 3 più 20 destra 4 doppia vai 60 sinistri indossati taglia giù 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 taglia destra 3 30 sinistri al cartello fila sinistra 3 più vai per destra vai 100 sinistri indossati ritarda poco sinistra 2 più in taglia destra 2 per ritarda poco fila sinistra 2 in taglia poco destra 3 20 fila sinistra 2 per destra 3 sinistra 3 tieni per ritarda poco destra 2 20 destra 3 40 40 40 destri ritarda poco sinistra 2 in sinistra 4 tieni in taglia destra 2 in sinistra 2 in taglia destra 3 per ritarda poco fila sinistra 2 più 30 taglia destra 3 in sinistra 2 20 fila sinistra 3 più in destra 3 in sinistra 2 più per sinistra destra 2 40 fila sinistra 2 20 ritarda poco destra 2 più per fila sinistra 2 20 ritorna poco destra 2 più 20 sinistri taglia poco destra 3 per fila sinistra 2 più 30 destri sinistra 4 più per destra 3 più vai 50 destri indossati attenzione ritorna poco destra 2 gira per sinistra 3 più 20 fila rail sinistra 2 lunga 40 vista taglia poco destra 3 30 taglia poco destra 2 per tornante sinistro 80 ritarda poco destra 2 vai 30 sinistra 3 più 60 sinistri destra 5 20 destra 3 secca 40 sinistri attenzione tornante destro leva 40 fila sinistra 2 più 20 sinistra 5 50 destri sinistra 3 per sinistra 2 20 20 attenzione fila sinistra 2 20 sinistra 4 40 sinistri tornante destro 30 fila sinistra 3 in fila destra 4 in sinistra 3 vai 50 destra 4 più 20 ritarda poco destra 3 più 30 destra 3 40 attenzione più versione sinistra 30 sinistri stai a sinistra taglia sinistra 4 30 fila sinistra 3 30 sinistra 2 più 100 sinistri indossati al palo fila destra 3 con Gattini in sinistra vai 50 destra 3 al palo chiude 2 meno 20 sinistra 2 apre per destra sinistra 4 fila destra sinistra 3 50 sinistri indossati fila sinistra 2 50 sinistra 3 60 destra indossati giù 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 destra 3 30 attenzione vivio sinistra 2 30 vivio destra 3 chiude subito lunga lunga sporca per sinistra 4 30 sinistra 2 per destra 3 vai 40 sinistra 2 50 destri fila destra 2 in taglia sinistra 2 sporca 30 30 sinistra 3 20 taglia sinistra 3 20 ricardo destra 2 chiude subito 2 lunga 20 sinistra 2 per destra 2 più 30 30 sinistra 2 per sinistra 2 40 sinistra 4 più 30 taglia sinistra 3 sporca 70 destra 2 più 20 sinistri fila destra 2 subito attenzione tornate sinistra 20 destra 4 in sinistra subito tornate destro 20 attenzione tornate sinistro apre vai 30 attenzione destra 2 per sinistra destra 5 20 fila destra 3 subito sinistra 3 20 sinistra 3 20 attenzione tornate sinistro tieni 20 sinistri tornate destro leva per sinistra 2 più 20 destra 3 per sinistra 4 20 ritardo a destra 2 lunga per taglia sinistra 2 sporca 2 sporca 50 taglia poco destra 2 più sporca in sinistra 2 30 taglia poco sinistra 2 per no sinistra 2 meno subito tornate destro per ritardo a poco tornate sinistra per tornate destro tieni 20 ritardo a poco tornate sinistro 20 sinistri tornate destro per per destra vai 60 fila destra 4 50 sinistri ritardo a poco destra 2 80 sinistri fila destra 3 20 attenzione bivio ritardo a poco sinistra 2 taglia per destra 4 per destra 3 per destra 3 su sinistra 4 meno stretto 50 no sinistra 4 30 destra 4 per sinistra 4 più 30 fila sinistra 2 più in destra 4 40 destra e torna molto taglia destra 2 più lunga per sinistra 3 tieni 20 tornate destro 30 sinistra 2 per destra 3 20 fila sinistra 2 più 20 fila sinistra 3 più per ritardo a poco fila destra 2 più per sinistra 2 in destra 3 tieni 20 ritardo a poco fila sinistra 2 più 20 fila destra 3 in sinistra 3 per ritardo a poco destra 3 in sinistra 3 doppia per sinistra 4 più 30 ritardo a poco tornantone sinistro tornantone non fregiamo mano lì se vuoi 30 ritardo a poco tornantone destro per ritardo a poco fila sinistra 3 20 destra 3 in fila sinistra 3 20 destri fila sinistra 3 50 sinistri ritardo a poco destra 2 in sinistra 4 30 destri fila sinistra 2 per destra 2 più per fila sinistra 2 40 fila destra 2 in sinistra 2 più quello ok la destra si ok destra 3 20 sinistra 3 ai cartelli chiude 2 30 fila sinistra 2 per ritardo a poco fila destra 3 lunghe tieni 5 ok 20 fila sinistra 3 3 20 fila destra 3 30 fila sinistra 2 in tornante destro 30 fila destra 2 per tornantone sinistra per sinistra 4 più vai 40 sinistri a cartello fila sinistra 4 per destra 4 in sinistra destra 3 vai 50 sinistri in sinistra 2 in destra 2 in sinistra 2 20 sinistra 2 più per destra 3 più per sinistra 2 più per interno poco destra 3 meno 40 destri tornantone destro lungo tieni per tornante sinistro 40 sinistri fila sinistra 3 più vai 20 sinistra 4 più 20 fila destra 3 30 destri fila sinistra 3 in destra 2 più taglia in ritardo poco sinistra 2 per destra 2 più lunga chiude 2 meno intornante sinistro leva 30 ritardo poco sinistra 2 per destra 3 lunga lunga tieni cattivo da matti cattivo da matti città ti ha preso la prova qua subito no ma dopo ti sei accesa come un petardo perché sbaglio scivolava un po' dietro un attimo adesso con la pressione 13 05 e 3 di 1 2 1 2 2 3